buongiorno ragazzi oggi siamo a san giovanni da special moto di salvatore a storino e andiamo ad aprire delle casse di un nuovo mezzo appena arrivato maverick sport max quindi quattro porti 1000 versione ormai 2022 e dotato di abs ben arrivato ora lo apriamo la cassa è grandissima qui ci sono altri mezzi max 1000 570 quello di dietro quello di dietro è un 570 e questo qua invece è un 1000 andiamo al pezzo forte siamo raffaele ragazzi la cilindrata è 1000 a 95 cavalli è dotato di servo stress punta delle gomme da 28 e ha un'altezza della terra di 30 centimetri e mezzo ovviamente a quattro posti perché è l'ermac arriva di serie solo con le porte posteriori e le anteriori sono sono optional che comunque verranno montate a breve non spiare Claudio ai 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 che la vittà si 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 Siamo un po' troppo grande. Questo è un po' pericola. l'artefice di tutto questo mostro auguri claudio grazie 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 ecco guarda 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 un po' le maxi maxi Eccolo Lunghissimo Che c'è tu ora? Sì, non fa nello Prima questa caccia, io stavo lì a steppare, ho messo un problema con l'ingombro Questa è sera la mia però C'è un allargatore L'allargatore da 76 mi chiamo Seguire, fatte vedere, fatte vedere così che fai l'ho Vai l'allargatore Hai fatto parecchio qui, guardate se tu vuoi poter fare Eh si, se tu verrà sì compo Ecco che Raffaele già scopre i dettagli Le novità La chiave Chiave seria Per mezzo serio Quasi quasi c'eravamo tutti Guardate cosa fai Ma che se si libe qui, da 28 Parola Questa è da 24 Guarda Allora A cosa Guardate Guardate Allora Lo s EXPO Non basta Ora la montiamo. Ragazzi abbiamo montato gli amostrisatori, le barre di posizione laterale, i specchietti, lo specchietto interno, la rete posteriore, il copribaule qui sopra e stiamo montando il tradicello. Poi mancano per ultimo le portiere, che sono composte da due parti, la struttura e la parte lucida. Ciao ragazzi!